Arriva subito la prima soddisfazione per l'Atletica Piacentina ai campionati regionali in programma in questo fine settimana al Campospino D'Ordoni di Piacenza. Eleonora Nervetti, velocista di punta dell'Atletica Piacenza, nella prima giornata di gara ha conquistato l'oro nei 100 metri piani, correndo in 11 secondi 83 centesimi, precedendo così le rivali Laura Fattori di La Fratellanza e Roberta Schiassi dell'Atletica Montanari-Gruzza. Rispettato dunque in pieno il pronostico che vedeva la Piacentina classe 2002 tra le favorite, L'augurio è che l'onora si possa ripetere anche nella giornata di domani nella specialità dei 200 metri femminili. Partezza con il motto dunque per la Kermesse organizzata dall'Atletica Piacenza, che nel weekend riunirà complessivamente oltre ai 460 giovani atleti provenienti da tutta l'Emilia-Romagna.